Buongiorno ai ragazzi di Seconda A, collegamento quasi in diretta dalla cucina della prof Mirella Molinari. Come state? Io sto bene, spero che stiate bene, che anche le vostre famiglie stiano bene. Riprendo il collegamento, non so se avete visto... Chi c'è? Scusate un attimo. Eccomi, allora dicevo, non so se avevate visto il primo video che ho inviato, vi invitavo appunto ad ascoltare musica, a continuare a suonare, non so se l'avete fatto. A questo punto ho lasciato un po' lavorare le colleghe che hanno le materie un po' più impegnative e però vorrei riprendere anch'io un filo diretto con voi. Non vi darò esercizi quotidianamente, non vi spaventate, non vi imporrò di suonare il flauto, di riempire le orecchie dei vostri genitori di flauto, però un po' di esercizio mi sembra giusto assegnarvelo. Allora, alcune cose. La prima, controllate sul registro elettronico, io vi assegnerò alcune proposte di lavoro, non voglio neanche chiamarle compiti, il mercoledì e il giovedì per la settimana successiva, ma poi possiamo sentirci anche più spesso, quello non c'entra, in corrispondenza di quelle che sarebbero le mie lezioni, giusto? Noi di solito ci vediamo il mercoledì e il giovedì. Oggi, ad esempio, ho inserito la proposta di suonare The Lion Sleeps Tonight e di farlo attraverso lo spartito di Fabio Vetro su YouTube, quindi lì avete già lo spartito, avete già l'esecuzione, potete riprenderlo o per chi non l'avesse ancora fatto farlo da capo e provare a suonarlo alle varie velocità. Vi sto poi attivando anche in altri modi, vorrei riuscire anch'io a lavorare in modo condiviso per fare un po' un ripasso degli aspetti principali della musica. Poi aspetto le vostre proposte, i vostri suggerimenti, io sono partita con il flauto perché so che vi piace suonare e che siete anche molto bravi e quindi partiamo da lì. Però ci sono tante altre cose che si possono fare insieme. Aggiungo una cosa per quelli che hanno partecipato al lavoro sul video. Sto montando il video che abbiamo realizzato insieme. Mi servono gli audio letti da voi, cioè realizzati da voi. Vi ricordate che vi avevo consegnato un foglio con alcune frasi da imparare. Ecco, troviamo il modo di riuscire a scambiarci questo materiale perché mi serve per completare i montaggi. Comunque, ne riparliamo nei prossimi giorni. Adesso intanto ripigliate il flauto, ricominciate un po' a suonare. Ok? Ciao!